Sono state consegnate ieri a Villa Celiera in occasione della giornata della legalità le onorificenze a militari e associazioni di volontariato da parte dell'amministrazione comunale. A ricevere gli attestati sono stati il comando Compagnia dei Carabinieri di Penne, la Croce Rossa Comitato Locale di Pescara e la Protezione Civile 9, dopo gli interventi che gli stessi hanno effettuato durante l'anno sul territorio comunale di Villa Celiera, scongiurando il peggio in un territorio fortemente colpito dalle calamità e dalle criticità. Il primo intervento durante la nevicata dello scorso gennaio salvando la vita ad una coppia di coniugi intossicati, la seconda un mese fa, quando una signora colpita da malore fu trasportata in tempi da record da una volante dei Carabinieri al campo sportivo di Penne, dove ad aspettarli c'era l'eliambulanza impossibilitata ad atterrare nei pressi dell'abitazione. Questa era una giornata a cui tenevamo veramente in modo particolare, sia io ma soprattutto tutta l'amministrazione comunale, perché il nostro paese è una piccola comunità e quindi volevamo veramente sia per dare una riconoscenza ai militari e ai volontari, ma soprattutto per dare, io l'ho voluto, per dare rassicurazione alla nostra cittadinanza, perché noi con l'aiuto di queste persone possiamo sentirci più sicuri e soprattutto possiamo contare su persone che si mettono a disposizione per noi e quindi possiamo stare nel nostro paese, perché dopo quello che è successo l'anno scorso, molte famiglie mi dicevano guarda sindaco l'anno prossimo noi ce ne andiamo, non vogliamo ritrovarci in una situazione, invece no, io ho voluto questa giornata per rassicurarli, per dire che ci sono io in prima persona, ma ci stanno loro e quindi possiamo tranquillamente stare nel nostro territorio a cui siamo legati e siamo veramente innamorati del nostro paese.